Ciao a tutti amici orciani vicini e lontani, oggi è il 2 giugno 2013 e è una giornata importante per lo sport orciano perché l'Orzi Basket ha vinto in gara 1 contro il Basket Crema con il punteggio di 72 a 64. Noi del Tele Orzi eravamo presenti e vi mostriamo le immagini più importanti di questa memorabile partita. L'appuntamento è per mercoledì 5 giugno allo stadio di Ombriano, lo stadio del Basket Crema. Mi raccomando l'Orzi Basket ha bisogno anche del nostro aiuto quindi venite numerosi. Ah e un'altra cosa importante ricordiamo che il Gioli Orzi Nuovi categoria Juniors classi 1995-96 che giocava la semifinale di andata contro l'Adro in casa ha vinto per 2 a 1. La semifinale di ritorno sarà domenica alle ore 18 allo stadio di Adro. È un'altra cosa importante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.